Una battaglia vinta, peccato per quel primo set chiuso male, 11 errori a 4, forse si poteva gestire meglio il primo set che poi ha complicato un po' la partita. Sia quello che il terzo set insomma li abbiamo tra virgolette buttati via, anche l'arbitro ha dato una bella mano a loro per aiutarli a vincere, però alla fine siamo contenti così, lo sapevamo che era difficile loro giocavano tra virgolette in casa qui, con il loro pubblico, quindi è stata veramente una battaglia siamo contentissimi di questi due punti. Due vittorie per la Lube che fanno classifica e siamo veramente ad un passo dalla Final Four. Sì, dovremmo non dico avercela fatta però siamo lì, siamo vicini, come primi e come secondi. In teoria dovremmo passare, questo diciamo che era il primo obiettivo che ci siamo posti tutti quanti, cercare di passare il turno anche se sapevamo che era molto molto difficile, ma in teoria ce l'abbiamo fatta. Che esperienza è stata contro questo pubblico che ha spinto alla grande? Bello, bello. Insomma due partite, sia quella di ieri che quella di oggi, interessanti, belle, combattute, sono tutte squadre di altissimo livello, compresi noi, quindi è così.